Grandissimo successo e numeri da record per la dodicesima edizione del Narnia Festival, la cremessa ideata e diretta dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, con la direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio, che abbraccia tante forme d'arte e dà spazi a generi e stili diversi. Un mese intenso di eventi, spettacoli sold out, qualità artistica di altissimo livello, tantissimo entusiasmo e soddisfazione da parte di tutti. Questo il bilancio della rassegna andata in scena a Narni con un'importante sezione di anteprima dedicata al canto e all'opera lirica a cui hanno partecipato oltre 100 artisti americani. Un bilancio positivo dunque in termini di presenze non solo agli spettacoli, ma anche ai corsi di alto perfezionamento che il festival propone, e molti dei quali hanno visto raddoppiare gli iscritti. Un successo, quello del Narnia Festival, che cresce di anno in anno, mentre Cristiana Pegoraro continua a collezionare importanti risultati a livello personale e artistico. Proprio mentre il Narnia Festival era in corso, a Spoleto, nell'ambito di Spoleto Arte, la pianista è stata insignita del premio Margherita Hacke. Sono stati molti personaggi che hanno partecipato al Narnia Festival e le ne hanno apprezzato la cifra artistica, tra questi la giornalista Safiria Leccese, la conduttrice Paola Saluzzi, l'imprenditrice, fondatrice e presidente della Fondazione Marisa Bellissario Lella Golfo e l'attore Edoardo Siravo, che hanno ricevuto il premio Narnia Festival Leone d'Argento alla Carriera. Ma anche Bruce Ditmas, batterista e grande leggenda del jazz e regista Angelo Antonucci e i giornalisti Costanzo Eroice e Antonio Roccuzzo, che hanno partecipato agli eventi della Kermesse. È stato l'anno delle grandi produzioni, con concerti dedicati al repertorio classico e delle orchestre sinfoniche. Tra questi ci sono stati il concerto di apertura, con la settima sinfonia di Beethoven, nel concerto di Schumann per pianoforte e orchestra, il Requiem di Mozart e la serata dell'orchestra zigana di Budapest, oltre al gran finale, con l'orchestra formata da tutti gli studenti e dai maestri del Narnia Festival. Narnia Festival Narnia Festival